E ciao a tutti ragazzi, io sono Eletro16 e oggi siamo nel Minecraft SCP nel mondo dell'SCP.js con Tickle Monster. Nello scorso episodio avevo visto l'SCP 871, ovvero la torta che si sduplica. Cioè la torta che si sduplica avevo visto la scorsa volta. Oggi andremo a vedere un nuovo SCP, intanto raga prima di andare voglio poggiare questi oggetti che non li uso praticamente mai. E inoltre voglio dirvi una cosa, vi ricordate che lo scorso episodio avevo trovato oggetti strani? Ecco, tra gli oggetti strani ho trovato questa, una palla che si chiama Spawn e dei Plate Framment. Qua posso fare anche delle monete, del quarter, delle monetine, mi sa, vediamo. Ci sono delle monetine che si chiama One Plate Framment, Spawn. Non ho la più palida idea di cosa siano, cosa servono. Quindi direi, intanto li mettiamo qua perché non ci servono. Nel caso trovassimo l'utilità, forse le andremmo a visitare. Cioè andremmo a utilizzarli su quello che dovremmo fare. Intanto raga, dalla scorsa volta sono spawnati i nuovi SCP. Era spawnato uno qua sotto che avevo anche già fatto vedere, questo qua. Che voglio andare a vedere oggi. E se non mi sbaglio, là erano spawnate nuove celle. Se non mi sbaglio, in realtà non mi ricordo proprio niente. Non so manco se sono spawnate nuove celle con nuovi SCP. Intanto qua c'è ancora il vecchio e lo sento. Ma se ho un po' il volume che ce l'ho... Ma ce l'ho sempre alto, ma perché? Sì, qua c'è ancora il vecchio. E qua se non erro... Ah, comunque stiamo tornando. Oltre a vedere se erano spawnati altri SCP. Ma mi pare di no. Perché la scorsa volta avevo visto la torta che si sduplica. La torta che si replica. E avevamo ipotizzato che la torta si poteva rigenerare dopo un tot tempo. Quindi, raga, andiamo a controllare. Intanto, se non mi sbaglio, anche la scorsa volta... Cioè, in realtà non sono sicuro se la scorsa volta avevo visto veramente il... Coso, le... La torta ma le farfalle di cristallo. Mi sa che avevo visto le farfalle di cristallo. Mi sa, eh. Raga, non me lo ricordo che SCP avevo visto. Comunque la torta... La torta non si è ancora generata. Ed è sparita proprio. Non c'è più l'entità. Mi sa, quindi, che avevamo ragione noi. Ovvero... Cioè, che avevamo torto. Ovvero, che la torta non può rigenerarsi. Dopo un tot tempo. Comunque, io sono molto curioso anche di vedere questa cella. Secondo me qua c'è il cristallo contagioso. Sono più che sicuro perché l'SCP del cristallo contagioso, il 409, richiede qua il granito e la cella, indovinate, arrivano delle palle di fuoco. Ok. Qua ci sono delle palle... Ah, c'è qualcosa? Strano. Comunque, quella cella stavo dicendo... Strano, raga. Comunque, sì. Mi sa che quella cosa... Quell'entità che spawn perché ogni tanto, stranamente nel mondo, davanti al giocatore, spawna una strana entità. E quell'entità mi sa che ha toccato l'acqua. Non so che entità sia. E mi sa anche che... Avevo sbagliato. Non si sono generati nuovi SCP-9 celle. Ah, sì. Vedete questa entità? Vabbè. Comunque, la cella di oggi è questa qui. È particolare perché qua sotto... Qua sotto proprio c'è l'ingresso alla cella. C'è tutto anche un meccanismo di Ransom. Quindi io direi... Apriamo la cella. E mi sa che quello è il cartello. Sì, è il cartello. E mi pare anche di aver capito chi è l'SCP. E se non... Ecco. Allora, raga. SCP di oggi. Cater 035. Nell'immagine si capisce chiaramente chi è. E... Raga, ovviamente... Sicuramente ci ricordiamo chi è 035. La maschera. Raga, la maschera. Oggi... L'SCP che andiamo a vedere oggi è la maschera. Praticamente è una maschera... Che se la indossi questa... Ti... Ma... Ti manipola il cervello, raga. È una maschera che se viene indossata da qualcuno... Questa manipola... Produce un liquido... Che... Distrugge il cervello. E riesce a controllare il corpo della persona che ha distrutto il cervello. Il liquido è corrosivo, però il vetro... Si è scoperto che il vetro è resistente all'effetto corrosivo creato da 035. La cena comunque è quella della torta. E praticamente questo... Lei con questo liquido corrosivo può controllare le sue vittime... E creare dei tentacoli fatti dello stesso materiale. Che appunto sono questi qua. Questi... Vedete questi... Così? Allora, la cena comunque è molto strana. Ci sono questi... Sottospecie... Se mi avvicino mi da Wither. Perché ovviamente come ho già detto questi qua sono... Fatti con lo stesso materiale della maschera. Ok, qua c'è qualcuno... Qua c'è un tizio... Che indossa la maschera. Ok, stiamo lontano dal tentacolo. Sì, raga, c'è un tizio che indossa la maschera. Qua invece... Aspetta, allora... Io non ho le torce. Non ho le torce. Ma io ce le avevo le torce. Mi sa di no. Comunque qua c'è un tizio. Qua c'è... Ci sono i tentacoli che se mi avvicino mi danno due cuori di danno e mi danno l'effetto di Wither. Intanto qua nelle ceste c'è la stessa roba... Che ho visto nella cena della torta. Al posto della torta c'è l'essenza. E qua ci sono altri frammenti. Questi qua fanno tutti Wither. Proviamo a farci uccidere. Vediamo, vediamo. Ok. Tentacle. Eh sì, raga, è un tentacolo fatto del materiale. Direi che adesso... Torniamo nella cella. Dovremmo provare a ucciderlo. Secondo me bisognerebbe provare... A ucciderlo. Qua che succede? Ok. Vabbè. Ok. Meno male che non si è visto niente. Allora... Eh... Direi che... Tanto qua facevo tanto di questo... Distruggiamo i tentacoli. Se io faccio così... Il tentacolo muore... Ma non succede effettivamente nulla. Qua uccidiamo anche questo. Qua c'è un'altra cella e c'è, mi sa, la maschera. Infatti... Qua c'è un altro tentacolo inoltre. Uccidiamo anche questo tentacolo. Qua c'è la maschera, raga. Eccolo qua. SCP 035. Oh. Che poi quando lo tengo in mano... Ce l'ho già addosso. Molto strano, sì. Dice... Press e hold. Raga, dovrei indossarlo tecnicamente. Però io lo sto cliccando... Non me lo fa indossare. Strano. Molto strano. Comunque... Allora, intanto io so scemo che... Aspetta. Si sta distruggendo il giubbotto, togliamolo. La maschera, raga, non la posso indossare, mi sa, eh. No. Non me la fa indossare, raga. Intanto mettiamo il visore. E direi... Di vedere come ultimo il... Lui. Vediamo un po'. Lui è aggressivo? Mi pare di no. No, no, no. È aggressivo, aggressivo, aggressivo. Allora, intanto il tentacolo... Aia! Raga, fa malissimo. Fa ma... Fa ma... No, vabbè. Fa malissimo sto coso. Questo qua è un... È uno scienziato che tipo è stato controllato... Ok, mi ha ucciso. SCP 035 Centis. Però, raga, è fortissimo. Cioè, con... Con un colpo mi ha tolto... 8-7 cuori. Tantissimo. È molto forte. E secondo me, se lo uccido, mi dropperà la maschera. O almeno penso sì così. Ora, non è che io ne sia sicuro a riguardo, ma penso proprio di no. Intanto, i blocchi... La porta... Cioè... Ehm... Lui è... Lui... Vediamo un po'. Fa vera? Aia. Raga, ci vediamo lì. Aspettate un attimo. Raga, ho pausato un attimo. Il tizio era fuori dalla cella. Sono dovuto... Correre in acqua. Vediamo un po' se il tizio ci viene. Vienici, tizio. Ok, l'ho... L'ho ucciso. Mi ha droppato... Altre essenze del 035. Raga, allora, io... Di questo SCP mi sa che abbiamo visto tutto. E' anche uscito dalla cella. Ok. Ha creato... Raga, allora... Questo qua era il punto in cui ero morto io. Ha creato un tentacolo. Ok. Uccidiamolo. Allora, raga, mi sa che ho capito. Lui, l'SCP, la... E la maschera non funziona, a quanto pare. Da quel che ho capito, lo scienziato è molto forte. Quando ti uccide, c'è una buona possibilità che lui, quando ti uccide, crea il tentacolo. Questo io ho capito. Ora, io non so cos'altro possa fare. Però vabbè, quindi... Niente, ragazzi. Allora, da me... Io comunque, ragazzi, direi che per questo video è tutto. Lasciate un bel like. Iscrivetevi. E ovviamente da me Eletro se dice tutto. Cioè, abbiamo visto tutto quel che potevamo fare. Ciao. Al prossimo video. Ciao. Grazie a tutti.